L'ingresso in acqua quando la deliafazione è di 5 cm e cerchiamo di utilizzarla in tutti i tipi di travagli. In parte in acqua è possibile solo mettere travagli a basso rischio, però la cosa più positiva è che il nostro gruppo di ostetriche crede molto in questo percorso, per cui a tutte le donne viene data l'opportunità di utilizzare la vasca per il proprio travaglio. I benefici sono molteplici, perché intanto l'effetto antalgico sicuramente, e poi la donna che si immerge in acqua calda ha un rilassamento veloce e profondo, per cui si assiste a dilatazioni più rapide, che sia un'incidenza maggiore di parti con genitali integri. I compagni sono maggiormente coinvolti e è una nascita migliore anche per il bambino, che trova un ambiente più caldo e più umidificato. Per cui è una cosa vantaggiosa per l'adattamento alla vita rispetto alla nascita in tutte le altre stanze parto. Ecco, come funziona? Parli un po' delle caratteristiche. Dunque, la temperatura dell'acqua si controlla, deve essere di 37 gradi, è importante soprattutto al momento della nascita. Il bambino viene preso poi dalla mamma o dall'ostetrica, ha portato in superficie, starnutisce e inizia a piangere immediatamente. Il taglio del cordone in genere lo fa il babbo, è possibile comunque la donazione del sangue cordonale anche per i bambini che nascono in acqua. Grazie.